All'improvviso indovinai il motivo del suo comportamento, lo avvertì dai mobili costosi, dai libri, dal tavolo da biliardo, lo percepì dal legame tra la logica più rigorosa e il gioco che abbiamo insegnato con l'ambiente. Ero penetrato nella sua tarea, e ora vedevo chiaro. Kohler non l'aveva ucciso perché era un giocatore. Non era un giocatore d'azzardo, non lo attirava la puntata, lo attiravano al gioco in sé, il percorso delle palle, il calcolo e l'esecuzione. Le possibilità della partita. La fortuna per lui non significava niente, per questo poteva considerarsi estremamente fortunato, non fingeva neppure. Era soltanto fiero del fatto che fosse in suo potere, sciagliare le regole del gioco, seguire lo sviluppo di una necessità che aveva creato lui stesso, in questo consisteva il suo senso dell'umorismo. Naturalmente non aveva nessun motivo per farlo, sublime volontà di potenza, forse, il desiderio di giocare non solo con le palle, ma anche con gli esseri umani, la tentazione di porsi sullo stesso piano di Dio. Possibile, ma non importante. Come giurista devo stare in superficie, non calarmi nella psicologia, o addirittura in abissarmi nella filosofia o nella teologia. Con il suo omicidio Collor aveva vinto un'altra partita, ecco tutto. Ora le cose andavano secondo i suoi piani. Io non ero altro che una delle sue palle da biliardo, che il suo tiro aveva messo in moto. Lui agiva in modo perfettamente illogico. Davanti al tribunale non aveva adotto alcun motivo, perché ciò era impossibile. In generale gli assassini agiscono per movimenti chiari. Per fama o per amore, i movimenti spirituali sono rari, e talvolta disformati dalla politica. I movimenti religiosi sono ormai quasi inesistenti, e portano direttamente al manicomio. Ma il consigliere cantonale agiva per amore della scienza. Sembrava assurdo, ma era un pensatore. I suoi movimenti non erano concreti, erano astratti. Ecco il punto. Gli piaceva il biliardo non come gioco, ma perché gli serviva come modello di realtà. Come una delle sue esemplificazioni possibili. Modello di realtà. Una delle espressioni preferite di Mocchio, lo scultore, che si occupa molto di fisica e poco di scultura. Uno svitato dalle idee confuse, negli ultimi tempi frequenta spesso il suo studio. in quale è un po' 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 è un